Troverete dei costumi che nel senso che non sono così legati alla tradizione, prendono spunto dalla tradizione ma cercano di essere in qualche modo timeless, perché comunque volevamo dare un'immagine che secondo noi fosse più vicina al nostro immaginario collettivo, perché qui poi è un immaginario comune, ma c'è il cinema, c'è la moda, c'è il signor Valentino, c'è l'opera. E credo che comunque la contaminazione abbia prodotto qualcosa decisamente di nuovo. Per noi è stata una grande opportunità quella di lavorare a questa produzione, anche perché le logiche per i modaioli sono completamente diverse, ma è interessante capire il punto di vista di Sofia che voleva dare a quest'opera un tono meno solenne, forse più personale, cioè in questo abbiamo pensato che ci fosse la contemporaneità. Grazie per la visione!